Andiamo ragazzi, e andiamo! Roma che batte 4-0, una Salernitana che per tutto il match si è chiusa in difesa, veramente non ha fatto passare nulla, ha messo un pullman, ha messo il pullman della Salernitana in difesa e questo pullman la Roma è riuscito ad abbatterlo proprio nel secondo tempo facendo 4 gol. Comunque, la Roma che fa una grandissima vittoria, quindi dopo che un primo tempo abbiamo fatto questo possesso palla sterile, inutile, girando palla inutilmente, senza provare, cioè la Roma ha provato la profondità senza troppo successo e nel secondo tempo, quindi nell'intervallo, Mourinho ha trasmesso un'altra mentalità, una mentalità diversa ai giocatori, ha detto voi dovete andare adesso in campo e tirare fuori le palle perché dovete giocare sulle fasce, è per questo che la Roma ha fatto questi 4 gol, perché la Roma non giocava sulle fasce e giocando in profondità contro queste squadre qua, per tutto rispetto a Salernitana, io spero che si salvi perché è una buona squadra che secondo me può salvarsi, però non ai livelli della Roma ovviamente, però comunque con queste squadre qua la Roma doveva giocare sulle fasce e così ha fatto nel secondo tempo, Mourinho è stato bravo ad impostare questa strategia qua e abbiamo fatto 4 gol. Allora, cominciamo dalla difesa, dunque, in difesa molto bene, Rubatese, no, molto bene, Karlsdorp e Vigna che hanno spinto bene, oltre ad aver difeso bene hanno dato la loro spinta offensiva, soprattutto Vigna mi è piaciuto di più di Karlsdorp perché ha difeso meglio di Karlsdorp e soprattutto perché anche ha fornito l'assist per il primo gol della Roma di Lorenzo Pellegrini. Quindi, Vigna e Karlsdorp molto bene, in difesa i Bagnes e Mancini non sono, diciamo, non sono stati impiegati più di tanto, giustamente perché in attacco la Salernitana proprio era neutra, non ha quasi mai attaccato la Salernitana, quindi, giustamente, i Bagnes e i Mancini, giusto, giusto, diciamo, le uniche volte che la Salernitana si è fatta vedere, loro sono sempre stati lì pronti ad anticipare, ecco, e a spaziare via la palla e l'hanno fatto pure in maniera molto, molto pulita. L'Uri Patrisio è proprio zero, cioè senza voto, perché, come ho appena detto, la Salernitana non ha mai attaccato e, quantomeno, non ha nemmeno tirato in porta, non ha quasi mai tirato in porta. Quindi, anche l'Uri Patrisio senza voto, e perché, cioè, per niente, è stato tutto il match a prendersi, proprio a fumare una sigaretta o a prendere un caffè al bar, un cornetto al bar, cioè senza voto, quindi l'Uri Patrisio. Al centrocampo, molto bene, Cristante, che ha fatto dei buoni lanci lunghi, veramente è stato molto preciso nei passaggi, ha fornito tantissimi passaggi, tanti lanci lunghi, buonissimi cambi gioco, quindi veramente molto bene anche lui. Benissimo anche Veretù, che veramente lui è una macchina da guerra, Veretù, una macchina da guerra, il perno del centrocampo, Veretù. Veramente, corre quando c'è da correre, cioè corre tantissimo. Attacca molto quando c'è da attaccare, infatti quando attacca, però gli agisce quasi da trequartista. si inserisce molto bene quando la Roma attacca, inserisce molto bene e soprattutto segna molto. Un centrocampista che segna tanto, uno dei centrocampisti che segna di più in Serie A. Infatti tre gol in due partite, nelle due prime partite della Serie A, non è da tanti. Quindi, molto bene anche a centrocampo. In attacco, Mkhitaryan. Non abbiamo visto il solito Mkhitaryan delle altre partite, vero? Perché Mkhitaryan c'è, ci stanno le partite in cui fa bene e le partite no. Questa è stata una partita un po' no, però, cioè, mi devi forse dire una partita mezzo no, mezzo sì. Perché? Perché ha fornito, perché ha dato l'assist per il gol di Veretù. Che giustamente oggi ha segnato, quindi ha fatto l'assist per il gol di Veretù. Tra l'altro, partirà da una bellissima azione di Carles Perez, che poi vi dirò, secondo me, come ha giocato. Poi, Carles Perez, appunto, ecco. Carles Perez, lui, buonissima partita nel primo tempo, è uno di quelli che ha cercato di farsi vedere un po' di più, senza tanto successo. Nel secondo tempo è cresciuto molto, si è fatto vedere un po' di più. Veramente, poi, tra l'altro, da lui è partita l'azione per il gol del 2-0, un'azione da manuale. Veramente la dà ad Abram. Abram la dà dietro per Mkhitaryan, che poi trova il taglio in area dove si inserisce molto bene Veretù che all'angolino destro non può sbagliare. Quindi, molto bene anche Carles Perez. Poi, Abram, Abram, finalmente, finalmente anche lui, nonostante la prestazione sotto tono, finalmente è arrivato al suo primo gol di Maya Gelo-Rossa. Oh, finalmente, dopo due prestazioni in cui ha fatto vedere che il primo gol se lo merita tutto, perché ha fatto due prime partite molto, molto buone, finalmente questo gol è arrivato. Dopo una traversa e un palo, il gol è arrivato. E io sono molto contento di questo, che il giocatore abbia trovato il suo primo gol con questa Maya, con la Maya Gelo-Rossa, appunto. Poi, Pellegrini, Pellegrini molto, molto bene, veramente il migliore in campo, Pellegrini. Nel primo tempo, nel primo tempo lasciamo stare, però nel primo tempo ha sbagliato troppo. Nel secondo tempo, invece, è salito in cattedra e ha giocato davvero capitano, da capitano della Roma. Ha giocato proprio da Pellegrini, da lui ha giocato, veramente. Ha fatto un grandissimo secondo tempo, che oltre ad aver aperto il vantaggio per la Roma, ha anche chiuso la partita, quindi per il 4-0. Ha fatto doppietta, con un gol sull'assist di Vigna, un grande lancio di Vigna, che, quindi, Pellegrini ha riuscito a trovare il vantaggio, fortunatamente, perché Belez, il portiere della Serenitana, l'aveva preso, però poi è passata comunque in porta. Poi, è bellissimo anche il gol del 4-0, il tiro a giro che ha sorvolato Belez, e quindi è andata, praticamente, sotto al 7, quindi all'angolino destro, dove, sul secondo palo, dove Belez non poteva arrivare. Quindi, un'ottimissima prova dei nostri giocatori, un'ottimissima prova, escerà Wishomurodov senza voto, perché non hanno avuto, secondo me, varie occasioni per dimostrare il loro talento, tranne Wishomurodov, che aveva un'occasione da gol, però l'ha sfruttata male, per il resto, è molto, molto bene la nostra prova, sono molto contento che Murigno, diciamo, gli abbia, veramente, gli abbia dato una grande strigliata a questi giocatori, che, sono sicuro che sicuramente, negli spoilerò, gli abbia dato una strigliata, gli abbia detto che dovete proprio scendere, dovete scendere, tirando fuori le palle sul campo, sicuramente aveva detto una di queste frasi qua, sono convinto, e questo è il risultato, questo è il risultato, la Roma, quindi, è, veramente, ha dato una grande reazione, facendo 4 gol. Comunque, buonissima prestazione ai nostri giocatori, adesso ci sarà la sosta dei, la sosta della, delle nazionali, poi, il 12, domenica 12 settembre, riprenderà la Serie A, e noi giocheremo la partita contro il Sassuolo, che ovviamente sarà fondamentale, per fare un'altra vittoria, sulle prime a tre partite della Serie A, sarà fondamentale, sarà molto fondamentale, comunque, la Roma dovrà continuare su questa strada qua, speriamo di vincere anche la partita contro il Sassuolo, e con questo concludo qua, e ragazzi, se è piaciuto questo video, lasciate un mi piace, un commento, fatemi sapere la vostra, riguardo, Roma salernitana, fatemi sapere, secondo voi, chi è il migliore in campo, secondo me il migliore in campo, è Pellegrini, l'ho detto prima, però, comunque, Bella Roby, mi manda un salutone, un bacione, noi ci vediamo al prossimo video, e sempre, 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 forza, Roma, ciao ragazzi!